Il trapianto di polmone è uno dei più delicati quali sono i pazienti elegibili per questo tipo di trapianto? Soprattutto pazienti che hanno insufficienza respiratoria cronica che si sviluppa nel corso generalmente di qualche anno e pazienti giovani o relativamente giovani per relativamente giovani intendiamo classicamente sotto i 65 anni anche se la carta identità non è certo una condizione qua non per accedere a questa terapia. Ci sono delle patologie specifiche che inducono al trapianto di polmone? Sono tante le patologie che causano insufficienza respiratoria diciamo circa un cetinaio alcune molto molto rare diciamo le più frequenti sono la fibrosi polmonare, l'enfisema polmonare e la fibrosi cistica. Bisogna dire che la nostra grandissima soddisfazione è che la fibrosi cistica ha trovato in questi ultimi 3-4 anni proprio una terapia per cui farmacologica compresse sostanzialmente per cui molti pazienti che erano in nota per il trapianto polmonare con questa terapia sono tornati a respirare bene e sono usciti dalla nota quindi questa è una grande soddisfazione insomma per noi medici trovare la pillola che possa risolvere un problema così serio come quella delle insufficienze respiratorie. Quali sono i principali rischi di un trapianto di polmone? I principali rischi possono essere divisi sostanzialmente in due parti in secondo della storia del momento in cui guardiamo il paziente trapiantato. Il primo anno diciamo il problema delle infezioni è il problema più serio perché il paziente immunodepresso e conseguentemente deve stare molto attento a mascherina, stare molto attento a non frequentare ambienti affollati, questo sicuramente è il problema principale. Dal primo anno in avanti entra invece il problema più importante che quello del rigetto cronico. Il rigetto acuto lo dominiamo abbastanza bene. Il rigetto cronico è una cosa su cui si sta lavorando molto.